Tutte le regioni fanno investimenti in sanità, dice il commissario presidente Donato Toma. Il giorno dopo l'allarme è nato a Termoli per la sorte del Santimoteo. Un procurato allarme, dice il commissario, quello scattato alla notizia proveniente dall'Abruzzo sulla costruzione del nuovo ospedale di Vasto. Frutto, aggiunge, della campagna elettorale ormai già in corso. Al contrario, prosegue Toma, Termoli verrà potenziato con un investimento di oltre 14 milioni di euro, risorse di una partita più ampia che vale complessivamente 190 milioni che il Molise si accinge a spendere. Di questi, sottolinea Toma, 46 milioni saranno destinati al Veneziale di Isernia. Facciamo chiarezza una volta per tutte. Il Molise è un piano degli investimenti che prevede 105 milioni di euro in edilizia sanitaria. Poi abbiamo una delibera Cipe numero 51 del 24 luglio 2019, 22 milioni 254 milioni, sempre per investimenti in edilizia sanitaria. Abbiamo ancora l'accordo stipulato a essenza della legge 241-90, l'articolo 15, che per il Molise prevede 46 milioni, faccio cifra tonda, 46 milioni da investire sul presidio ospedale irroveneziale di Isernia. Abbiamo ancora nel PNRR investimenti 1.2, la misura, verso un ospedale sicuro e sostenibile, Santimotio di Termoli, sono previsti oltre 14 milioni di euro sull'ospedale Santimotio di Termoli. Poi abbiamo 8 milioni di euro su PNRR di attrezzature. Dal commissario arriva anche un richiamo al Governo nazionale. Le attività vanno a rilento, dice, per la mancanza del subcommissario. La ex inquilina della struttura, Anna Maria Tomasella, si è dimessa da settimane perché è passata ad altro incarico. Aspetto la nomina in questi giorni, rimarca Toma, altrimenti la prossima settimana metterò in mora il Governo. Mi sono interfacciato con il Governo. Se la questione non viene risolta entro questa settimana, la prossima settimana dovrò necessariamente mettere in mora il Governo perché noi senza subcommissario non possiamo stare.